Adesso vi racconto una storia, una delle tante storie legate alla crisi, è una storia di dignità. Il capogruppo al Senato, Vito Crimi, ha fatto visita al cantiere della metro di Brescia, dove alcune famiglie hanno occupato dei container in via di smantellamento. Sono famiglie che sono state sfrattate per morosità incolpevole. Cos'è la morosità incolpevole? La morosità dell'affitto legata alla perdita del lavoro. Non per furbizia o per altri motivi, ma semplicemente perché la perdita di lavoro ti porta a perdere la capacità di reddito per poter pagare un affitto. Solo nella città di Brescia sono 700 i casi di questo tipo. C'è un'area nella città di Brescia in cui c'era il cantiere del metrobus e qui c'erano tanti container che ospitavano gli operai. Container perfettamente agibili, addirittura con aria condizionata e riscaldamento all'interno. Siamo arrivati urgentemente la mattina perché ci siamo accorti che queste casette che la ditta avrebbe regalato al comune di Brescia stavano per essere smonti. Si sono dimostrati subito molto validi e dignitosi. L'altro ieri è arrivata una famiglia con questi due bambini di due anni e di quattro anni. È possibile in qualsiasi parte del mondo, ma soprattutto qui che è ancora una zona ricca, è possibile che dei bambini vengano abbandonati per strada perché hanno perso tutto e quindi hanno perso anche la casa. La nostra risposta è questa, se l'amministrazione non fa niente noi siamo disponibili e siamo decisi a difendere le famiglie sotto sfratto e a occupare tutti quegli alloggi vuoti, abbandonati e a darli in mano agli esseri umani. Perché prima vengono loro, poi viene tutto il resto. Per cui noi dobbiamo andare avanti puntando sul nostro primo punto di programma che è il reddito di cittadinanza. Nessuno deve rimanere indietro, queste situazioni non devono più accadere. Allora i dissidenti da una parte, quelli della diaria che si tengono la diaria di là. Nella stessa sala che aveva visto Beppe Grillo protagonista solo qualche giorno prima, si svolge una riunione congiunta tra eletti alla Camera e al Senato, che chiarisce una volta per tutte la questione di aria. I senatori e i deputati del Movimento 5 Stelle percepiranno esclusivamente 5.000 euro lordi, a cui vanno detratte, tra l'altro, l'IRPEF e tutte le addizionali regionali e comunali secondo la propria provenienza. A questo si aggiungono i rimborsi per le spese legate alla permanenza a Roma, cioè quella famosa diaria. La diaria sarà percepita esclusivamente per le spese rendicontate. Tutto ciò che non è rendicontato sarà restituito. Tutte le altre forme di rimborso che superano la diaria, come spese generali, telefoniche e altro, non sono necessarie e non le prenderemo e le restituiremo. Una riunione per la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera. I cittadini eletti del Movimento 5 Stelle hanno presentato la mozione sul ripristino dei fondi per scuola pubblica, ricerca ed arte. Nella sedicesima legislatura sono state tagliate alla scuola pubblica ben 7,5 miliardi di euro e in 5-6 anni alla cultura 700 milioni. Per quanto riguarda la cultura, la nostra mozione impegna il Governo a realizzare un pieno di investimenti pluriannale per i beni culturali, per prevedere a delle forme di agevolazione anche fiscale per tutte le persone che operano appunto nel settore dello spettacolo, riconoscendo il valore culturale che questo ha al fine di garantire la sopravvivenza soprattutto di quelle realtà artistiche minori e indipendenti. ...di coordinare e selezionare con università, centri di ricerca ed imprese i progetti di ricerca prioritari nei settori più importanti. Proponiamo un programma triennale di assunzioni che preveda la stabilizzazione del maggior numero di precari, di docenti precari e personale ATA. Impegniamo il nuovo Governo nel ripristino delle risorse che sono state sottratte alla scuola. Alla Camera è il giorno della discussione del Decreto 35, relativo allo sblocco di 40 miliardi di euro di debiti della pubblica amministrazione verso le piccole e medie imprese. La discussione in aula è infervorata dalla controversa scelta di salvaguardare il finanziamento all'Expo a fronte di altre voci legate pur sempre ai bilanci delle regioni. Come spesso accade, la fanno da padrone, assenteismo e pianismo. Per coloro che sono a fianco e sono assenti cortesemente. Per una questione di correttezza, grazie. Possiamo notare che ci sono tagli che colpiscono un po' ovunque, come solo a titolo di esempio tutela della salute o politiche per il lavoro. Ecco, con quale faccia andiamo a dire ai cittadini che l'Expo ha questa priorità? Stiamo concedendo un'esenzione fuori completamente dal discorso contenuto nel decreto, tra l'altro senza alcuna destinazione sociale o utile ai cittadini. Grazie. Questo modello, quello dell'Expo, va sempre a favore dei più forti e dei più potenti a discapito di chi in questo momento sta rimanendo indietro. Grazie. Volevo riportare le parole del procuratore nazionale antimafia vicario, Perluigi Maria Dell'Osso, che cita testualmente in un sistema dove circola meno denaro, cioè il sistema attuale, e i soggetti istituzionali, bancari e imprenditoriali sono indeboliti, le mafie trovano terreno fertile per ampliare i loro affari e riciclare denaro. Un evento come quello dell'Expo 2015, dunque, è destinato a suscitare l'interesse di queste organizzazioni. A quanto pare, dagli interventi in aula, ci sono diverse persone che sono a favore di questo e il Movimento 5 Stelle è completamente contrario. Mi sembra che si può andare avanti. Non appare episodico il coinvolgimento dell'Andrangheta nei lavori dell'Expo 2015. Almeno in due episodi, nella fase iniziale dei lavori, non ha funzionato l'attività amministrativa di prevenzione volta a impedire l'intervento subdolo e indiretto dell'Andrangheta nell'Expo 2015. Questo lo dice la commissione che avete formato nella scorsa reggisola. Concluda. Tutti gli emendamenti presentati in questo libretto sono stati bocciati dalla commissione bilancio e pertanto in aula li stiamo comunque discutendo tutti. In aula la tensione è palpabile. Dai banchi della maggioranza piovono critiche al Movimento 5 Stelle, accusato di inesperienza a causa di alcune richieste ritenute non concure. Non dico a chi è qui da anni di vergognarsi, ma almeno di avere il buon senso di tacere perché il risultato che ci avete lasciato è un'Italia in macerie. Quindi ben venga che ci sono persone nuove qui dentro. I colleghi del PDL richiamano il regolamento. Noi in quest'aula richiamiamo alla Costituzione, imparata a rispettare le sentenze e la magistratura. E ai cari colleghi del PDL ricordiamo che a delle forze che contrastano e attaccano così la magistratura, voi avete dato fiducia e voi ci governate assieme. L'eco del comizio di Brescia e delle accuse di Silvio Berlusconi alla magistratura giunge nell'aula del Senato. Il prevole Alfano che ha in qualche maniera avvallato con la sua presenza all'interno di quella manifestazione che doveva essere un comizio legittimamente, un comizio elettorale, quelle che sono state le prese di posizioni violente e irriguardose del Senatore Berlusconi nei confronti dell'operato dei magistrati italiani. Sono amareggiata, così come credo buona parte di questo gruppo, della citazione a mio avviso assolutamente impropria relativa alla vicenda Tortora. Un caso giudiziario che non ha nulla in comune con gli attuali procedimenti nei quali il Senatore Berlusconi è coinvolto. Non è nient'altro che un'offesa alla sua memoria. Ricachiedo al Ministro Alfano come pensa di conciliare i doveri impostigli dalla sua carica con la sua scelta politica di avallare platealmente con la propria partecipazione posizioni che mettono in discussione l'autonomia e l'indipendenza di membri appartenenti all'ordine della magistratura. Per essere leali al proprio Paese bisogna in primis accettare le leggi e bisogna rispettare il principio che la legge è uguale per tutti. L'ufficio di Presidenza della Camera ha bocciato la proposta del Movimento 5 Stelle di istituire un fondo di solidarietà nel quale far confluire le eccedenze delle indennità e delle diarie. Sembra, l'ho ripetuto più volte, veramente singolare che tutto l'ufficio di Presidenza alla fine si sia espresso nella direzione di non far aprire questo fondo. Adesso non ci fermiamo, chiederemo che venga aperta una voce nel bilancio dello Stato, nello specifico nel Ministero dell'Economia e Finanze, con un conto a questo punto sulla piccola e media impresa perché abbiamo realizzato che ai partiti non interessa aprire questo fondo. Tra l'altro, mentre noi doniamo ad un fondo che serve per i cittadini, molto spesso i deputati e senatori degli altri partiti donano al proprio partito. A noi non interessa donare soldi al Movimento 5 Stelle e tantomeno ci interessa prendere i rimborsi elettorali. Tutto quello che facciamo, i gazebo, i banchetti, i volantini, i giornali, i siti di internet, sono tutti autofinanziati e questa è la nostra vera forza. Nel corso della stessa riunione è stata invece approvata una norma che estende l'assistenza sanitaria integrativa che copre tutti i parlamentari ad un commivente dello stesso sesto. relazione alla quale il PDL, il PD, il SEL e tutti gli altri partiti si sono espressi in maniera favorevole, ci siamo astenuti. Strideva molto una decisione che accentuava la differenza da quello che succede qui dentro nella Camera dei Deputati e quello che succede tra i cittadini, dove per 20 anni non c'è stata la possibilità di fare uno straccio, l'ideggio sulle coppie di fatto. Ma non è che quei partiti che riempiono le piazze per la famiglia contro le coppie di fatto e poi qui dentro si votano i loro coppie di dentro. In una provincia l'ente che dovevamo sopprimere, tant'è che coerentemente noi non abbiamo mai partecipato alle elezioni provinciali, a differenza di altri noi diciamo e facciamo, gli altri invece dicono e poi fanno l'esatto contrario. Il Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera una proposta di abolizione delle province. Noi certamente siamo dell'avviso che il personale amministrativo debba comunque essere tutelato nei suoi diritti, ma in questo modo noi daremo un altro cazzotto alla partitocrazia che ha invaso le istituzioni e gli enti pubblici a discapio dei diritti della cittadinanza. Ed è stata uccisa a poche centinaia di metri da qui, il 12 maggio del 1977, in occasione del terzo anniversario della vittoria referendaria per il divorzio e il diritto all'aborto. In chiusura dei lavori alla Camera, il Movimento 5 Stelle ha inteso omaggiare la figura di Giorgiana Masi. Presidente, sono 40 anni che le donne combattono per i propri diritti. In questo paese però vige una grande e forte mentalità maschilista. Credo che sia il caso di attuare quella rivoluzione culturale di cui tutti abbiamo bisogno. Grazie. Grazie. Primo incontro per la Commissione Affari Esteri. Il Movimento 5 Stelle esprime le sue perplessità circa l'attuale politica comunitaria e il predominio economico tedesco. Credo che l'Italia, in base all'articolo 11 della Costituzione, cede la propria solennità a un organismo sovranazionale, purché, cito testualmente la Costituzione, è in condizioni di parità con gli altri Stati e che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Noi non vogliamo dare una delega in bianco alle organismi sovranazionali. A noi sembra che l'Unione Europea debba garantire proprio questo, la parità fra gli Stati. E siamo proprio certi che con l'attuale predominio tedesco questo avvenga nello scenario europeo? Noi abbiamo forti dubbi. L'Europa, o meglio le sue istituzioni, appunto, sono considerate distanze dai cittadini che invece dovrebbero essere coinvolti sempre di più. E questo è uno dei punti fondamentali del nostro Movimento, ovvero la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, anche tramite forme di democrazia diretta, quali referendum. Ed è per questo motivo, quindi, che chiediamo che al termine di un'approfondita discussione pubblica ai cittadini italiani si possano esprimere per mantenere l'Italia nell'euro oppure reintrodurre una moneta nazionale. Tanti autorevoli commentatori considerano percorribile questa strada. Il Giappone, ad esempio, con un debito pubblico addirittura superiore all'Italia, ha un'economia in crescita, grazie anche alla sovranità monetaria. Il ritorno alla sovranità monetaria non deve essere considerato più un tabù. Il Movimento 5 Stelle promette dunque battaglia per restituire un ruolo centrale ai cittadini nelle scelte strategiche, quale, ad esempio, quella della moneta. Non ci piace l'Europa quando si coniuga solo come Europa economica, Europa fiscale, Europa monetaria, Europa finanziaria, dominata dai mercati. E non si cita invece mai quale dovrebbe essere invece l'Europa dei diritti, l'Europa della solidarietà, l'Europa dei popoli. Il DL35 viene approvato in aula alla Camera dei Deputati. Il Movimento 5 Stelle decide di astenersi. Noi ci asteneremo dal voto perché non siamo favorevoli con la metodologia e con le criticità dell'impianto del disegno di legge. Non votiamo contro solo perché speriamo con grande cuore che questi fondi arrivino realmente all'economia reale nelle tasche dei cittadini. Nella conferenza stampa seguente, una delegazione del Movimento 5 Stelle si sofferma sugli emendamenti approvati e quelli bocciati in commissione ed in aula. La legge della piccola e media impresa italiana e il fatto che nessuno deve rimanere indietro sono due punti cardine del nostro programma e come abbiamo sempre detto, noi in campagna elettorale abbiamo preso degli impegni che con coerenza stiamo cercando nell'azione quotidiana all'interno del Parlamento di portare avanti nelle commissioni, in aula, negli atti di sindacato ispettivo, in tutte le sedi. Il dibattito sui OGM arriva al Senato. In aula vengono presentate cinque mozioni diverse, unanimi nel chiedere una sospensiva sull'utilizzo delle sementi geneticamente modificate PD, M5S e SEL. Il PDL presenta una mozione opposta, favorevole quindi alla sperimentazione dei OGM. Ci sarebbero i numeri per votare e ottenere una sospensiva, prende la parola il ministro di Girolamo che invece chiede ed ottiene un rinvio. Un rinvio per trovare un'unica direzione su un argomento così importante. Visto che mi pare di comprendere che siamo tutti d'accordo, penso che sarebbe un bel segnale se le cinque mozioni diventassero una sola mozione. Ieri è stata depositata la proposta di legge per la cancellazione degli accordi franco-italiani, come è stato promesso in campagna elettorale. Nell'intervento del Movimento 5 Stelle si evidenziano le palesi irregolarità di quest'opera di dubbia utilità. Non è ammissibile che si possa generare o creare un cantiere senza un progetto esecutivo. Se provate voi ad aprire una finestra a casa vostra e vedere in quanti minuti vengono a prendervi. Lì ci sono centinaia di forze dell'ordine che controllano, ma va bene per tutti. Quindi il sottosegretario ha risposto all'interpellanza con la solita sequenza di fandoni e fuffa che sono anni che ci propinano. E quindi tutta quella impalcatura, quella caserma, perché poi di quello è comunque, perché ci sono sicuramente più forze dell'ordine che operai, è assolutamente illegale, illecita e va bloccata quanto prima, se si vuole rispettare la legalità. La discussione si è svolta in un'aula praticamente deserta. In assenza di votazione non si applicano trattenute sulla diaria. Il Movimento 5 Stelle chiede l'abrogazione di ogni potere non partecipativo. La questora Bottici spiega il principio tutt'oggi vigente della auto di Kia. Che è un principio costituzionale che io ho scoperto tramite Irene e testa. L'auto di Kia è un principio pseudo costituzionale che consente alla Camera e al Senato, quindi alle due Camere, di autogestirsi, di autoregolamentarsi, quindi di gestire, come dire, la cosa pubblica in qualche modo in maniera del tutto autonoma, senza che la legge stessa, là dove la legge viene prodotta, possa in qualche modo metterci naso. L'Italia è l'unico paese in Europa ad avere ancora questa copertura, questo scudo dell'auto di Kia parlamentare ed è paradossale pensare che i paesi anglosassani che sono stati loro ad inventarla sono i primi che poi si sono resi conto che questo principio era assurdo e l'hanno abrogato questo principio che rende le istituzioni opache e poco trasparenti agli opi dei cittadini. Proprio questo vuoto, questa distanza, derogando alla normativa. Il Movimento 5 Stelle, dopo aver ascoltato tutte le parti a vario titolo coinvolte, dottori, Stamina Foundation ed i familiari dei malati, esprime la necessità di avviare la sperimentazione sin dal 1 luglio 2013, a condizione di garantire la sicurezza e la trasparenza. Spero che quello che noi abbiamo votato in commissione si traduca poi in un dato di fatto, ovvero che la sperimentazione continui come noi crediamo che sia giusto, però non ci si può chiedere di derogare alla sicurezza. Noi non lo possiamo fare per onestà, per la stessa onestà e per la stessa trasparenza, trasparenza che noi chiediamo anche al professore Vannoni del metodo Stamina, perché noi la trasparenza la chiediamo a tutti. Non possiamo fare sconti. Ci dispiace. Non possiamo fare sconti con nessuno e se questo dovrà tramutarsi in una forma di impopolarità o di qualunque cosa sia per essere, noi non abbiamo paura, perché sappiamo che lo stiamo facendo solo e nell'esclusivo interesse di tutti i cittadini italiani. In un'aula purtroppo semideserta risuona il toccante sentito intervento del cittadino eletto Matteo Dallosso. Una speranza di vita per tutti gli ammalati. Non è facile scoprire di essere ammalati e avere qualche diversa particolarità e dover affrontare il sistema da soli. Proprio come la mia storia e oggi la storia di tantissimi altri malati di sclerosi multipla. Infatti, e quindi concludo, tutto questo potrebbe essere un piccolo ma significativo tassello nella direzione della trasparenza e quella da noi perseguita. Grazie a tutti i colleghi. Grazie. Vinciamo noi ragazzi! Vinciamo noi! Vinciamo noi! Voi passiamo noi!